I tuoi riaccidi, una fattacampo offensiva, questo avvio di Milano, Schiltz, spazizioni, Anderson l'assetta per Schiltz che prende la mira ma sbaglia, in due tempi, ribalzo di Tergeschi, pesca il taglio di Schiltz. Schiltz intanto firma il meno uno. Schiltz lo perde, il colone va da Tergeschi, consegnato per Stimini, linea di fondo l'assetta per Schiltz, due secondi per tirare, stavolta fa un buon lavoro. Schiltz! Schiltz è arrivato prima, ancora Milano. Schiltz! 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 Schiltz!